quindi stare seduto lì e basta non sta funzionando per te puoi creare un processo più attivo così tanti modi di fare le cose vengono istituiti perché anche la stessa persona una persona individuale potrebbe non essere nello stesso livello di ricettività e di apertura ogni giorno della propria vita quindi c'è un canto c'è il silenzio c'è la sadhana ci sono vari altri tipi di cose almeno queste tre cose se le fai c'è guru puja c'è un semplice canto o stare seduto in silenzio o la sadhana qualunque di queste cose fai funzionerà se tu e non provare a sentire la presenza finirai per immaginare delle cose la cosa importante non è se io sia presente o meno che tu sia presente quindi se stai seduto in un posto la maggior parte del tempo non sei presente in quel posto vaghi per tutto il cosmo quindi la cosa migliore è se la tua mente in uno stato tale che tu canti o faccia una qualche sadhana o faccia guru puja così che tu sia presente se tu sei presente io sono presente sempre non ho fallito ancora anche se lascio il mio corpo sarò ancora presente quindi tu devi essere presente questa è la cosa importante la presenza non c'è nessun problema con la mia presenza è la tua presenza che è richiesta qualcun altro non può dire sì signora quando il tuo nome viene chiamato quindi sei tu che devi essere presente qualunque cosa funziona per te si presente in quel modo non puoi essere presente senza attività usa l'attività ok fai il tempo di presenza il tuo tempo di guru puja fai quello per te quella è la soluzione devi capire il punto è che tu sia presente che tu sia presente a un'altra dimensione di realtà io se io sono presente lo sono perché la presenza non è una cosa geografica sadguro sei presente in casa mia chiederò a chiave tutte le mie porte romperai le porte e verrai perché almeno non lasci le tue porte aperte perché dovrei forzare la porta come un ladro e venire il ladro comunque non forza si intrufola come un bandito perché perché non lasci la porta aperta e ti siedi il punto è che tu sia presente in questo momento sei sparpagliato ovunque quindi se non puoi essere presente e basta usa l'attività per essere presente guru puja un attività o se il tempo il luogo sono tali che non puoi fare guru puja almeno canta anche quella è un tipo di attività un'attività più leggera va bene semplicemente stare seduti ed essere presenti richiede una certa generalmente richiede molta preparazione oppure una forza esterna la maggioranza delle persone quando arrivano al primo giorno del programma ingegneria interiore prima cosa che dicono è tre ore non posso stare seduto quindi l'abbiamo fatto di tre ore un quarto perché le persone dicevano che non potevano stare sedute tre ore ho pensato ci deve essere qualche tabù con tredici e tre e quant'altro così ho detto fatelo di tre e un quarto sad guru gli americani non possono stare seduti tre ore un quarto tutti i nostri insegnanti e altri mi consigliavano ho detto va bene tre ore un quarto strano seduti solo il primo giorno erano difficoltà dal secondo giorno in poi quasi tutti stavano seduti tranne le persone che hanno qualche problema medico questo va bene perché se crei qualcosa di travolgente allora strano seduti perché non conoscono più il tempo non pensano in termini di tempo e il tempo e lo spazio e le dimensioni della vescica sta inventando ogni cosa è quello che diceva lui sta inventando sta inventando ogni cosa è il tuo concetto di vita quindi ora la presenza non ti preoccupare di me il punto è che tu sia presente io sono assai presente sempre sad guru ma le mie sei a venti di detroit potresti dormire non ti preoccupare io sono presente anche se sono morto sono ancora presente anche laта Aha Honey Ema 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 Ema